Praticamente ho passato la giornata intera a parlare esclusivamente di cripto, e coso, il trading, cioè è un... C'è fatto una cultura! La verità è che a me appassiona, no? Il mondo cripto in generale mi appassiona. L'ho sempre osservato e mai vissuto da dentro ed è il motivo per cui per anni sono sempre stato zitto, non ho mai parlato, non ho mai detto niente, perché non mi piace parlare di qualcosa che non tocco con mano direttamente. Invece, diciamo, nell'ultimo annetto che ho cominciato a mettermi dentro, poi con lo speciale che stiamo facendo, sempre di più mi viene anche da entrare nel merito su alcuni temi, perché sono forti, alla fine c'è un cambiamento enorme. Ma tu come sei entrata nel mondo cripto così? Passavi di lì un giorno e hai detto... No, nel 2014 stavo scrivendo la tesi, in realtà io ho studiato cinema, quindi non c'entrava assolutamente niente. Ma dai, ok. E la tesi era in... La tesi era da definire, stavo cercando il professore che mi accettasse una tesi, appunto, in merito a qualcosa che ho studiato. Andavi, bussavi le porte come al solito. Scusate, posso, esatto. Io ci ho messo una vita avere il professore che mi desse la tesi, nessuno mi voleva farla... Io volevo farla sulla parte economica, quindi della gestione, del budget, dei film, queste cose così. Poi il mio ragazzo dell'epoca lavorava nel settore e mi aveva detto, no dai ti prego, l'ennesima tesi inutile che finirà nel dimenticatoio, lascia stare. Ok. E mi aveva iniziato a raccontare di bitcoin. Ok. E a me era piaciuta soprattutto la, come dire, la parte anarchica del movimento, no? Quindi la decentralizzazione, il fatto che si... Potere al popolo. Potere al popolo, il fatto che si togliessero le banche di mezzo, insomma tutta la parte cyberpunk anarchica dei bitcoin, della tecnologia blockchain. E hai fatto una tesi su bitcoin? Ho fatto una tesi su bitcoin cercando in qualche modo... Un collegamento col cinema, esatto. Nuove frontiere del cinema su bitcoin. Sì, avevo trovato una sorta di parallelismo tra il fatto che quando una tecnologia viene adottata in massa, ovviamente al cinema o comunque ci sono più documentari, più film che ne parla. Insomma era una forzatura per cercare di parlare di bitcoin. Ok. E tra l'altro il professore di economia non era disponibile, mi aveva detto tipo, vabbè aspetta l'anno prossimo a laurearti e così parliamo di bitcoin. No, ho detto scusi ma se è sempre il caso. che debba aspettare un anno per scrivere la tesi con lei. E quindi ancora di più avevo fatto la tesi con un professore di cinema che mi aveva detto vabbè guarda te ne assumi tu la responsabilità, io te l'accetto ma non so ne... Esatto. Però questo ha fatto in modo che io studiassi di più l'argomento. Ok. E poi visto che mi piaceva scrivere avevo incominciato a cercare lavoro come giornalista del settore cripto. Ah subito diretta si è andato così. Sì, sì, sì. Ah non lo sapevo questo. No, no, avevo incominciato... Con il tuo nick? Con il mio nick? Il tuo nickname? Cioè? Non avevi un nickname? No, 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 no. Una delle poche che scrive con il nome... Ti sei presentata così, ok. Ed ero stata assunta da Cointelegraph. Ah, ok. Quindi ho cominciato così a scrivere... Immediatamente. Sì, sì, ma tipo una settimana dopo che avessi finito la tesi... Uno dei rari casi in cui... Esatto. Si lavora... Hai mandato il curriculum? No, una mail. Una mail, sì, sì, sì. Dicendo ho scritto la tesi in bitcoin, ho fatto la giornalista per vari anni in diversi settori... Falso questo. No, no, era vero. Era vero? Sì, perché prima facevo la giornalista di musica. Ah, ok. Che non c'entra proprio. Sempre che non c'entra nulla. Non c'entra niente. Gli hai mandato una mail e hai detto assunta. Ok, sì. Scrivi. Fantastico. Ok. È nata così. Hai iniziato così e adesso però c'è ad esempio CryptoOnist che cresce, 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 cresce. Sì, che è per fortuna, dai, almeno. Ma è italiano e inglese CryptoOnist? È italiano e inglese, sì. È una rivista solo sulle crypto, fintech, ICO, insomma, comunque il mondo delle criptovalute della blockchain ed è, sì, sia in italiano che in inglese, diciamo, che è da scrivere per gli altri ad avere, diciamo, il proprio giornale non è normale. No, è un bel passaggio perché ho visto Mentana, cioè in Italia, che dice adesso finalmente faremo il giornale online nel 2018 e con 150 collaboratori, non so quanti hanno mandato il curriculum, insomma, però sono tempi sempre diversi quelli dei media tradizionali, il mondo cripto si muove a velocità differenti. Senti, come fai a filtrare nel mare di fuffa che c'è anche nel mondo cripto, come fai a filtrare notizie valide da notizie invece che dici questi qua sono quattro scappati di casa, non è vero che… Vabbè, innanzitutto come si fa con qualsiasi giornale, è ovvio che le fonti vanno verificate, si vede anche l'azienda che è coinvolta, non so, faccio un esempio, magari si parla di Coinbase, di solito pubblicano le news sul loro blog e quindi sono effettivamente ufficiali e verificate. Giusto, ok. comunque cerchiamo di verificare proprio direttamente le fonti. Però magari il paper a volte è un papirozzo così, cosa fai, ti leggi tutto il paper? Cerchiamo… ti ho detto, difficilmente scriviamo su ICO perché diciamo il nostro… o piccole aziende perché cerchiamo di scrivere news comunque relative ai big del settore. quindi difficilmente ci troviamo con il problema di una vera verifica dell'ICO, del progetto di turno che ha poca credibilità. Ma è come vostra posizione su, ad esempio, Bitcoin, i media tradizionali appena c'è la parola Bitcoin intendono Bitcoin come wow, tiriamo fuori l'ultimo scandalo, l'ultima foglia di Bitcoin. No, chiaramente il vostro posizionamento immagino sia diverso ed è quello di dire trasferiamo quelle che sono le verità che stanno uscendo, diamo la fotografia esatta di questo mondo. come fai anche lì diciamo a muoverti in queste fluttuazioni enormi che ci sono state poi nell'ultimo anno e dire ok scrivo un pezzo e magari dico Bitcoin effettivamente ha ragione McAfee, ho visto tra l'altro la tua foto con McAfee. L'ho intervistato. L'hai intervistato? L'hai intervistato? È pazzo, è furioso, è furioso completo? No, no, in realtà no. Ero tranquillo rilassato? No, 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 sì. Ha parlato con tutti, era sempre molto sobrio almeno sembrava. Aveva le sue guardie del corpo. Aveva le sue guardie del corpo. Però ha parlato con tutti, era molto disponibile, ha fatto un sacco di interviste. qualsiasi persona start up che parlasse con lui ha ricevuto un biglietto da visita numero c'è assoluta disponibilità l'ho visto in intervista apro parentesi una volta come caffè dove loro stanno parlando così l'intervistatore qui e tu immagini e dietro c'è una porta esattamente come qua ho capito quale è quella che si vede l'arma della guardia del corpo che va a aprire e tira fuori cannone non li ho visti armati poi però si aveva una sorta di però ecco il buon vecchio mcafè dice bitcoin arriva un milione se in quel caso come riporti la notizia cioè sei di parte perché comunque sei sempre un po pro cripto o cerchi di fare un'analisi e dirò che in base a questo è quello che c'è mcafè ma in base alla nostra analisi allora diciamo che nel quando riportiamo le notizie cerchiamo di essere il più obiettivi possibili anche cercando di astenerci da un commento quindi mcafè ha detto che arriverà un milione punto cioè non ci asteniamo dal dire sì no forse è vero non vero anche perché comunque il personaggio è quello che è e quindi avrebbe anche poco senso mettersi a commentare i suoi tweet come dire certe volte anche molto colorati non avrebbe non avrebbe senso poi invece magari in altri tipi di articoli tipo quelli del trading che fa federico izzi che intervistato facciamo un'analisi poi magari della del mercato ok però nella news preferiamo come oggi il mondo di tutti questi magazine online di cripto quali sono diciamo i player principali se c'è qualcuno a cui magari vi ispirate o che ti sembra interessante o semplicemente siete più bravi allora in italia criptonomist credo che sia uno dei principali non abbiamo una grande concorrenza e infatti la maggior parte dei lettori e ma se dall 80 per cento italiano comunque della svizzera italiana e come magazine invece in lingua inglese aveva li conosciamo ho citato prima cointelegraph cioè coindesk sta facendo molte visite o comunque molto famoso ccn che sarebbe crypto coin news e questi ovviamente avendo anche una storia molto più lunga della nostra riescono ad avere le news anche prima di noi ovviamente hanno tutto un sistema di pr che è più più conosciuto e questo è il motivo per cui cerchiamo con criptonomist in realtà di fare meno news ma più guide per appunto chi si sta avvicinando al mondo di bitcoin per la prima volta oppure di fare molte interviste insomma cercare di concentrarci su una fetta di lettori che legge anche magari la concorrenza ma per un differente taglio legge anche noi e questo l'è reso anche possibile dal fatto che siccome criptonomist fa parte della della holding di poseidon abbiamo tante expertise tante persone che ci aiutano infatti è anche quello in modo per cui riusciamo a come dire anche a selezionare le news col fatto che all'interno della holding abbiamo tante persone che conoscono bene il settore ma anche molti influencer no come giacomo zucco per esempio riusciamo a avere una maggiore conoscenza del di cosa sta realmente avvenendo anche durante durante gli eventi loro ci aiutano molto come consulenza diciamo della degli articoli per vedere se sono scritti bene eccetera il modello di business in un magazine qual è in un magazine cripto uguale ai magazine tradizionali dove c'è l'investitore pubblicitario fondamentalmente in pubblicità probabilmente una delle prossime novità di criptonomist sarà il rilascio di un token che probabilmente sarà una security e questo ci diciamo darà ai lettori la possibilità di da una parte come dire beneficiare dei ricavi di di criptonomist stesso perché praticamente la security è quando come un titolo azionario tu hai uno share dei proventi della dei profitti della dell'azienda profilo fatturato e quindi se come se avessi se il new york times facesse un token tu dice ok io mi cucco il 10 per cento di quanto di quanto ok forte e come visto evolversi questo mondo qua da quando ha iniziato che poi uno ne parla ma è partito l'altro ieri però neanche dieci anni è pazzesco è andato andato velocissimo e tu hai preso un'onda proprio all'inizio e per cui l'hai visto diciamo partire evolversi che che evoluzione stai vedendo e pensi che che succeda da qua la cosa che ho notato è che per esempio i primi anni quando prendevo un taxi i tassisti parlano un sacco ti chiedono sempre dove stai andando cosa fai specie magari se vedo una ragazza e notavo che quando parlavo a me non parla mai a me invece sempre anche se io non parlo e quindi magari ti chiedono dove stai andando così accenno sempre a bitcoin giusto per fare un test anche lo conoscete o no e all'inizio non lo conosceva nessuno dovevo stare lì poi a spiegare di cosa più o meno si trattasse invece vedo che ultimamente tutti mi rispondono quanto meno che sanno di cosa sto parlando poi magari non hanno investito non sono diffidenti però quanto meno la parola incomincia a suonare a suonare familiare visto il 35 70 che hanno una catena di taxi italiana e accettavano bitcoin o avevano un progetto per accettare bitcoin tra i pagamenti? Sì sì lo stanno facendo con una start up italiana per cui insomma c'è una collaborazione con il BAN blockchain education network tra l'altro ho lavorato anche con loro un anno tipo e hanno fatto questo accordo per cui attraverso un payment processor riescono ad accettare bitcoin anche se in realtà poi non lo usa nessuno però diciamo che a livello quantomeno di di adozione di conoscenza qualche solo di marketing perché c'è questo c'è questa grande sproporzione tra quanto oggi se tu dici bitcoin tendenzialmente uno conosce bitcoin e quanti poi usano in realtà la cosa è scollegata proprio sono due mondi sì però almeno già quando incominci a vedere che ne sanno qualcosa già che è entrato nella testa delle persone ma di tutte le realtà che vedi e che magari ti segnalano ti mandano al comunicato stampa o comunque cioè entri in contatto conosci un sacco di gente ci sono alcune in particolare che ti sembrano super interessanti togli la galassia edu chiaramente diamo per scontato quello però applicazioni interessanti esempi di aziende che stanno facendo qualcosa e dici wow questo può essere veramente figo sì ultimamente ho sentito parlare di civil che è un progetto a blockchain sul giornalismo quindi un modo per combattere fondamentalmente le fake news con un sistema di come dire di fee di donazioni in token per chi scrive gli articoli migliori e anche invece dei feedback negativi per chi magari pubblicizza invece fake news e la cosa che mi ha sorpreso che cioè è una startup comunque abbastanza conosciuta però la cosa che mi ha sorpreso è che a Londra quando c'è stato l'evento di IOS a ottobre scusa a fine settembre ho visto la tua foto con Pierce Brock come la sono sognata di notte Brock Pierce c'è il fondatore di IOS cioè il CTO di IOS Daniel Harimel diceva proprio è la cosa che c'è bisogno assolutamente è avere dei progetti relativi al giornalismo per combattere le fake news e faceva proprio riferimento a questo a questo civil infatti me lo sto studiando io spero hanno raccolto è l'ICO che ha raccolto di più l'anno scorso durante il 2017 anche se in realtà l'ICO poi si è conclusa a inizio 2018 e questo mondo ICO lo vedi in calo lo vedi cosa sta succedendo? allora l'anno scorso è stato un po' l'hype delle ICO raccoglievano tutte tantissimo anche quelli che si vedeva che erano degli scam proprio dichiarati dichiarati però c'era l'hype dichiarati sono uno scam investiamo lo stesso invece quello che ho notato quest'anno è che le ICO vanno comunque avanti quelle che valgono raccolgono comunque tanto però c'è una maggiore consapevolezza da parte degli investitori e quindi si riescono a selezionare meglio per cui c'è ci sono tanti soldi che girano attorno però a poche ICO quelle che sembrano appunto più quotate più meno scam insomma e tu ti sei anche immersa diciamo come trading di criptovalute o robe del genere o ti sei sempre limitata a descrivere e raccontare questo mondo? personalmente ho investito più che trading sto oldando qualsiasi cosa oldando mi piace moltissimo ecco dopo forwardare oldare mi sembra la nuova frontiera no perché c'è il sì c'è il oldando oldando is the new black esatto c'è questo termine che viene poi tra l'altro nel settore si dice oldlando ok c'è l'inversione delle due lettere perché su reddit tempo fa c'era un tipo che sbagliava non si capisce se apposta o no comunque aveva scritto tutto un articolo invertendo le due lettere è diventato il motto diciamo e quindi oddly per cui tieni hai investito e ti tieni lì sì non ho mai fatto trading né di breve periodo né di lungo periodo tutto quello che avevo comprato ce l'ho ancora ah ok nonostante il mercato sia in calo io continuo a sperarci se c'è una visione in lungo periodo insomma tutte le persone con cui sto parlando diciamo italiane straniere alla fine dei conti concordano un po' sul fatto che sono onde queste e quando si fa pulizia c'è il momento di pulizia del mercato c'era io sono abbiamo quasi la stessa età ma io sono un pelo più vecchio nel senso io sono leggermente più anziani di te e quindi queste cose sono già successe insomma tutta la bolla e casini e poi si pulisce il mercato e restano i player seri insomma questo mi sembra un po' l'andazzo lo diceva anche Charlie Lee durante una recente conferenza Charlie Lee è il fondatore di Litecoin ok e diceva appunto in realtà il fatto che anche l'hype delle ICO sia diminuito è un indice della maggiore consapevolezza delle persone quindi in realtà è una cosa positiva perché se continuava a salire e basta vuol dire che c'era qualcosa che non andava e poi anche meglio perché almeno chi lavora nel settore non ha ogni due minuti l'incubo di sì caspita è su bitcoin è giù bitcoin controllo in effetti molto meno l'app per vedere i cambiamenti del prezzo ma infatti quando hai controllato l'ultima volta? dieci minuti fa? no forse ieri oggi non l'ho controllato è sempre uno dei miei figli che mi ha detto ah ma ormai io uso poco il cellulare tipo 16 ore al giorno al posto che 18 ecco una cosa leggera infatti abbiamo scritto anche noi in questi giorni del fatto che la volatilità di bitcoin sta diminuendo il che potrebbe farlo diventare maggiormente una moneta di scambio è un metodo di pagamento più adottato perché non è soggetto alla volatilità degli ultimi tempi quali sono i problemi principali che tu vedi oggi? diciamo quando si parla di questi temi o quando parli con qualcuno che non capisce una massa di cripto quali sono i problemi che secondo te vanno risolti prima che bitcoin o un'altra criptovaluta diventino mass market adottati da tutti o da molti? secondo me anche come media l'obiettivo dovrebbe essere demistificare le cripto in generale sia in senso negativo che in senso positivo nel senso che di solito se ne parla come una bolla come lo scam di turno come la cripto dell'illegalità quando invece tra l'altro da recenti studi soltanto il 5% nell'ultimo anno è stato utilizzato in traffici illeciti invece il 95% per azioni completamente legali ma anche dall'altro lato magari certe volte se ne parla esagerando che distruggerà le banche di solito ci sono sempre titoloni in ogni caso certo e quindi secondo me bisognerebbe arrivare a un equilibrio quindi evitare le fake i fake da qualsiasi gli estremismi positivi o negativi progetti futuri? progetti futuri? ti ho detto il token di Cryptonomist ci stiamo lavorando e poi a livello di business model stiamo cercando di trovare nuove soluzioni per la pubblicità perché fondamentalmente Facebook, Mailchimp, Google stanno sempre più bannando le pubblicità in ambito non solo dei ICO ma proprio anche per i wallet, gli exchange però ho visto una riapertura recente forse perché hanno bisogno di fare un po' di utili esatto, può essere ma anche per riuscire in realtà ad avere la pubblicità devi mandare tutta una serie di documentazione che non ti verrà mai approvata nel senso che i tempi sono biblici e quindi quando magari devi lanciare un progetto e hai anche una scadenza di un mese non hai nessuna risposta da parte del supporto anche perché non ti fanno neanche sapere se se verrà rifiutata o meno semplicemente non ti rispondono e vedi solo che le pubblicità non ti partono per esempio su Facebook quindi come business model di Cryptonomy stiamo cercando di rendere più facile la pubblicità attraverso i nostri canali per le ICO o comunque tutti i progetti cripto che volessero cercare di pubblicizzarsi diciamo nuovi modelli e tokenizzazione queste sono un po' le due cose in bocca al lupo allora, grazie cari grazie a me grazie a tutti grazie a tutti